Presentato oggi il progetto Home Care Premium per un'interessante iniziativa legata al welfare, all'assistenza domiciliare, come ci spiega l'assessore alle politiche sociali del comune di Francavilla, Francesca Buttari. Home Care Premium è un progetto dell'Inps che è stato vinto dall'ambito territoriale 29. Lavoriamo sul progetto da un anno e il progetto finanzia assistenza domiciliare innovativa perché a fianco all'assistenza domiciliare in senso stretto abbiamo tutta una serie di prestazioni integrative per la persona non autosufficiente, come per esempio che vanno ad alleggerire il peso della vita quotidiana. Parliamo proprio della possibilità di recarsi a un estetista, un parrucchiere, ma anche la piccola manutenzione o avere addirittura pasti a domicilio. A chi si rivolge? Si rivolge alla platea dei dipendenti pubblici e dei pensionati pubblici o dei loro discendenti di primo grado, genitori o figli. Addirittura un soggetto che ha la valutazione del bisogno massimo e un'ISE sotto 4.000 euro può arrivare a beneficiare di 1.300 euro al mese. Questo significa che il progetto dirotterà sul territorio del Foro Alento ulteriori 400.000 euro. Ci sono una serie di vantaggi anche qualitativi che il progetto porta, tra cui per esempio la possibilità di sperimentare nuovi modelli di governance e procedure. Stiamo per partire con una piattaforma informatica dei servizi sociali che connetterà tutti e 12 comuni del Foro Alento e connetterà tutti gli operatori che lavorano sui servizi sociali del territorio per poi arrivare addirittura a un'integrazione anche con l'utenza. Partiremo anche con l'accreditamento dei fornitori, quindi chiunque voglia aderire a questo progetto come utente avrà un ventaglio di fornitori a cui potersi rivolgere. Quindi partiremo con l'accreditamento dei ristoranti, degli estetisti, dei parrucchieri, di chi si occupa di piccola manutenzione, di chi si occupa di trasporto per disabili o per anziani. È importante questo progetto perché dimostra la centralità che l'ambito Foro Alento e il Comune di Francavilla dà alle politiche sociali. In tre anni mi sento di dire che abbiamo cambiato rotta alle politiche sociali perché ci si prospettava un futuro caratterizzato da tagli o da qualificazioni dei servizi e delle professionalità. Siamo continuamente soggetti ad un'incertezza finanziaria mentre abbiamo importanti standard qualitativi e quantitativi e riusciremo addirittura ad investire in procedure innovative e modelli di governance nuovi. Questo progetto riguarda l'ente d'ambito e quindi altri comuni del circondario? Sì, riguarda tutto l'ente d'ambito 29, i 12 comuni dell'ente d'ambito di cui Francavilla è capofila e quindi c'è un territorio vasto che beneficerà di questo progetto. Mi preme ricordare che per accedere l'Inps ha individuato un criterio a sportello quindi da quando uscirà l'avviso sul sito del comune, sul sito di tutti i comuni chi arriverà prima sarà preordinato rispetto a chi arriverà dopo e che il comune di Francavilla in quanto proprio capofila dell'ente d'ambito è a disposizione già da ad ora per qualunque informazione e che qualora non si sia figlio o genitore del pensionato o del dipendente è necessario comunque per essere beneficiato e registrarsi sul sito internet dell'Inps e avere un PIN, quindi anche rispetto a questo forse una visita agli uffici del comune per maggiori informazioni è utile. Grazie. Grazie.